Come docente scolastico ho deciso di dare un mio contributo soprattutto in questo periodo dove la sanità e la scuola sono al centro di tante discussioni. Il Covid ha fatto emergere le falle nella nostra istituzione scolastica italiana, come cose che già sapevamo, esempio l'età media del docente molto alta, le classi pollaio e spazi non sufficienti e tante altre cose. Come candidata della lista Democratici Progressisti a sostegno di De Luca ho ritenuto indispensabile proporre delle figure professionali del medico e dello psicologo scolastico all'interno della scuola. Oggi più che mai si sente il bisogno di queste figure professionali, non soltanto per l'emergenza Covid ma soprattutto per tutti i fatti che succedono, in primis senza dimenticare gli atti di violenza verso i minori. Quindi ritengo indispensabili queste figure professionali per un sostegno ai nostri studenti e per le famiglie. Nella scuola c'è tanto da fare, le idee ci sono, il coraggio non mi manca per questa scalata abbastanza tortuosa. Votatemi, votate per una scuola di qualità.